Si divide essenzialmente in due parti. La prima è un dovere, avendo Bruno, il direttivo della federazione, affidatemi la responsabilità sulla filateria moderna. La seconda invece è un dovere istituzionale, avendo accumulato negli anni un po' di esperienza a livello internazionale, per cercare di dare una mano e rendere ancora più competitive le collezioni che i collezionisti italiani portano a livello internazionale. Sento un cane di sottofondo, chiedo a Daniello di azzerare i microfoni di tutti. Bene, allora, vediamo di avanzare. Ok, questa diciamo che è l'agenda, un'introduzione sulla filateria ed oggi, indicazioni sulle possibili collezioni da farsi, con focus o di filateria dei tradizionali sui francobolli o di storia nepostale, e fornendo anche una serie di esempi nepratici. Poi, naturalmente, la seconda parte sarà invece relativa a suggerimenti espositivi, almeno su alcuni aspetti della collezione. Allora, in questa slide riassumo un po' quello che è sempre stato il concetto base di Giovanni Rigidi Inumana, che ha rappresentato per me un punto di riferimento. Sostanzialmente, Giovanni ne diceva che per assicurare, diciamo, una continuità nel tempo del collezionismo filatelico e, naturalmente, non potendo tutti avere le dotazioni finanziarie di tali e da poter avviare le collezioni importanti di filatelia di classica, è sostanzialmente guardare la filatelia, la storia postale dei giorni d'oggi, vuol dire che, comunque, dal punto di vista della ricerca, studio e catalogazione, lo stesso neppiacere e lo stesso interesse, senza necessariamente dover spendere decine, se non centinaia di migliaia di euro. Un altro aspetto che io voglio portare in evidenza, questo del settore, anche a livello internazionale, è un settore che sta ne partendo un po' adesso, sono ancora poche le collezioni che vengono esposte a concorso e anche, è di recente, nell'esposizione in Thailandia, c'è stata addirittura, mi sembra, di una medaglia d'oro. Poi le vedremo in dettaglio. Ora, alcune informazioni a riguardo, appunto, della filatelia d'oggi, che per la federazione internazionale, invece, si chiama filatelia moderna. La prima esposizione fu introdotta ormai dieci anni fa, undici anni fa, e, a livello internazionale, la classe è stata ripresa poi ad Israele, a Praga, né il 18 in Thailandia, in Cina, Londra, Ibra. Qui forse ho dimenticato di inserire anche Cape Town. Io stesso ho esposto in filatelia de Moderna con questi risultati. Come ne potete vedere, per una collezione, diciamo, di filatelia moderna, di filatelia ed oggi, e quindi degli anni recenti, riuscire ad ottenere, e comunque, questi punteggi, dal punto di vista decollezionistico, è sicuramente interessante. Mi sentite? Mi date né conferma né che mi sentite? Adesso sì. Prima parlate, non c'era spento. Allora, non vi sono delle regole uniche e i criteri di giudizio, per quanto riguarda almeno l'esposizione di filatelia e Moderna FIP. Qui vedete che, ad esempio, in alcuni casi, la tendenza era quella di esporre collezioni che partissero dal 1980, in altri casi dagli anni dei 2000. Noi, in Italia, è stata lanciata un paio di anni fa e per decisione del Consiglio e Direttivo della Federazione è stata ne posizionata nel 1990. Qui vediamo, dall'ultima esposizione che c'è stata in Thailandia prima di Natale, ci sono state le dieci collezioni su 451 esposte. Come vedete, ecco, ricordavo bene, c'è stato anche un gold su una collezione molto moderna. Quindi, diciamo che dal punto di vista, come dicevo prima, dal punto di vista dello studio, della ricerca del materiale, del collezionismo, del montare, del presentare, del studiare, è lo stesso nel piacere rispetto a fare una collezione negli antichi stati. negli antichi stati basta avere i soldi e si può ne comprare tutto, nella filatelia, ne moderno, o nella filatelia ed oggi, invece, a volte, poi vedremo, è abbastanza difficile recuperare il materiale. Questo viene riconosciuto anche a livello di regolamento. Dunque, in Italia è stata lanciata nel 2021 e si distingue fra sezioni e classi. È stato declinato, è coniugato nel nome di filateria d'oggi, in quanto della filateria ne moderno, come sapete, è già declassificata nei nostri concorsi. Il limite da cui è parte il collezionismo è il 1990. Mi spiace che sia stata scelta in questa data, perché se fosse departita dal 1980, come era stato indicato, come alcune esposizioni invece hanno offerto a livello internazionale, si sarebbero potute recuperare, per esempio, tutta la storia postale e tutti i francovoli dei castelli e gli alti valori. Però questa è stata una scelta fatta e quindi dobbiamo adeguarci. Nella filateria d'oggi c'è un regolamento che è abbastanza deflessibile, nel senso che permette anche di esporre in modo non necessariamente dirigido, quindi da 3 fino a 10 quadri. In più, diciamo che c'è una libertà espressiva in cui è possibile utilizzare anche del materiale correlato all'argomento che si sceglie, non necessariamente il storico postale. Per esempio, si possono inserire anche i deplianti illustrativi di un servizio postale o di qualcosa ne collegato, come anche ai tessere dei postali, cosa che invece in un'esposizione sia di filateria ne tradizionale o di storia ne postale in qualche modo non viene ne permesso. Direi che questo rappresenta un po' il quadro di quello che vuole esprimere questa classe a livello nazionale. Una cosa importante è quella del punteggio. Come ne vedete, nelle esposizioni diciamo tradizionali o storico-onde postali la condizione è 10 punti, la rarità è 20. In questo caso è stata ne divisa, esattamente come anche a livello internazionale, in quanto viene ne premiata la difficoltà del reperimento del materiale appunto perché ripeto nei materiali e degli antichi stati è possibile avere tutto o quasi tutto ne basta avere un portafoglio di molto gonfio nella filateria d'oggi o moderno diciamo è quella degli ultimi 20 anni a reperire del materiale anche storico-onde postale a volte estremamente difficile. Vediamo in campo e nazionale è stata lanciata per la prima volta la Bergamo Field l'esordio. Ci sono state quattro nelle partecipazioni Italia Collezione è solo tre e a più in file nessuna quindi è un qualcosa che è rimasto ancora al palo nel senso che non c'è quindi questo slancio però anche attraverso questa relazione ho voluto in qualche modo promuovere appunto il collezionismo e l'esposizione perché sono moltissimi e comunque i collezionisti che seguono il periodo moderno o il periodo della Filatelia ad oggi. Bene a questo punto passerei a vedere un po' come possono essere realizzate le collezioni escludendo gli anni gli altivalori e i castelli appunto che sono degli anni 80 cavallo degli anni 80 se se vogliamo in qualche modo possiamo ne partire con un collezionismo su i mondiali di calcio in cui sono stati emessi molti ne francobolli molti e molti ne foglietti e poi sempre nel calcio a partire dal 1991 si è iniziata la tradizione di emettere un francobollo per la squadra ne vincitrice del campionato anche qui e quindi nel mondo appunto dei francobolli e sul calcio è possibile creare ottime collezioni andando avanti abbiamo la mondiale del 92 di Genova e la mondiale del 98 durante le mondiali come sapete vengono emessi in una settimana moltissimi dei francobolli seguire tutte le tariffe che poi sono sia per l'interno per alcuni dei servizi e altri dedicate all'estero permette di costruire delle interessanti delle collezioni sia dal punto di vista iconografico ma anche storico a finire degli anni e 90 e a cavallo quindi col passaggio è dell'euro l'ultima vera serie di francobolli nel senso che successivamente a partire poi dal 99 da il prioritario i francobolli si sono trasformati in etichette in etichette autoadesive le donne e dell'arte sono ancora con gli altri dei valori in euro sono ancora dei francobolli che hanno quindi una filigrana hanno una colla e quindi hanno quell'interesse di specializzazione che può appunto interessare il collezionista da mettere in evidenza anche come queste due serie del prioritario delle donne e dell'arte sono le uniche serie che hanno avuto una vita in lire in doppia moneta e in euro anche in questo caso gli abbinamenti tra le varie e francobolli possono risultare molto interessanti dal punto di vista dello studio andando avanti da mettere in evidenza la possibilità di impiegare i minifogli dei francobolli commemorativi e poi il data matrix e le tipi lab che è nate appunto a cavallo degli anni del 2000 alti valori il codice bar è nato nel 2008 e ulteriormente la serie ordinaria di poste italiane e la lettera in volo le cartoline di manifestazioni filateliche per finire la leonardesca e le piazze d'Italia e infine i francobolli commemorativi con l'uscita di francobolli A e B io in un articolo che feci al tempo le dissi la storia dei postali è di fatto finita in quanto nell'interesse dei cambi di tariffa in qualche modo veniva e quindi le affrancature che seguivano appunto i cambi di tariffa risultavano a questo punto non più perseguibili per chi è interessato a preparare delle collezioni in cui il focus è la filateria dei tradizionali i francobolli il focus è i francobolli suggerisco questo è catalogo dove ci sono appunto tutta una serie di varietà che possono aiutare nella raccolta e nella catalogazione Bruno hai alzato la mano mi preparo per dopo finissi ah non vuoi e non vuoi commentare no 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 ok alla fine ecco a livello di francobolli avevo denominato e le colambiadi qui come sapete ci sono state più nazioni che hanno messo i francobolli anche qui ricostruire una storia con questi dei valori che alcuni dei quali erano valori secchi per alcune affrancature o servizi è sicuramente interessante dal punto di vista appunto storico postale questi sono i francobolli e questo è il francobollo di alto dei valori qui vi pongo alcune alcune immagini di buste interessanti che questa è un'assicurata con assegno e di rimborso questa è una raccomandata secca è da 5.000 lire in tariffa perfetta quando ne parliamo di difficoltà e di riperimento sicuramente gli atti giudiziari rappresentano questo tipo di materiale cioè che è un materiale insolito riuscire a trovare vi è anche qualche uso in particolare i vagli come questo passando sempre alla parte di francobolli appunto i codici a barre sui codici a barre c'è un interessante articolo di William e Vercellesi che può aiutare appunto nel organizzare e studiare una collezione ecco usi particolari dei commemorativi qui riporto sempre alcuni documenti depostali che in cui dovrebbe essere devalorizzata la difficoltà di trovare di questo materiale e quindi in qualche modo devalorizzare il punteggio finale ve ne sono alcuni estremamente interessanti come quelli che vi sto facendo vedere passando invece sempre ai francobolli un'altra possibilità è quella di mostrare le varietà in questo caso stiamo parlando però di trucchi addirittura sarebbe possibile organizzare una collezione con i trucchi o con i falsi che sono stati stampati negli anni nelle varietà queste alcune genuine molto interessanti molto rare e costose stiamo parlando della 500 gialla forse di 4-5 mila euro quella quindi anche in questo caso vi sono dei pezzi estremamente importanti dal punto che di vista diciamo della rarità quando passiamo invece a pensare di organizzare una collezione di storia del postale vi indico qui tutta una serie di potenziali possibili diciamo aree su cui è possibile organizzare una collezione e inoltre che entro in dettaglio e con tutte voglio solo evidenziare faccio un po' di pubblicità al Cifo visto che organizza questa conferenza c'è un ottimo lavoro fatto da Giovanni Rigi che fu oggetto anche di un weekend un seminario detenuto a Lavagna l'ho organizzato con Luca con Luca di Lavagnino il cartaceo non esiste più esiste ed è però in forma elettronica nome di pdf chi fosse interessato lo può richiedere alla segreteria del Cifo questi sono gli argomenti nei contenuti e quindi descrivono un po' l'avvio studiano singolarmente queste forme di poster e quindi è possibile avendo questo documento scegliere anche quale argomento approfondire questi sono ulteriori e non entro nel dettaglio infine sempre come il Cifo abbiamo realizzato da qualche anno fa è colpa mia perché io ho tutti i successivi dal 2017 ad oggi e quindi in qualche modo chi fosse interessato ad acquistare in forma elettronica di questo e questa è raccolta delle tariffe e postali per l'interno e per l'estero arriviamo appunto fino ai giorni nostri guardando sempre le forme di collezionismo per alcuni esempi in particolare il post a celere molto interessante perché ci furono 15 giorni 20 giorni e di periodo diciamo dei transitori o di prova che partono dal 15 di dicembre e dell'86 il costo era 20 euro poi il 5 di gennaio viene messo il francobollo di alto valore da 20 euro e quindi anche questa materiale è molto raro come? in lire in lire scusate sì mi sono sbagliato interessante anche il post a celere urbano che ebbe due momenti e anche il pony express i mototaxi vi mostro alcuni esempi sono tutti argomenti che se uno decidesse di volerli svolgere si può ancora divertire e ovviamente avendo la pazienza di andare nei mercatini a sfogliare gli scatoloni riuscire anche a trovare a poco prezzo del materiale interessante qui altri esempi su il post a celere EMS eccetera eccetera bene io ho concluso questa prima parte illustrando un po' quali possono essere le aree di interesse per sviluppare una collezione io mi fermerei qua se ci fossero domande perché poi attacco la seconda parte Bruno sì e voi Bruno volevo farti due osservazioni la prima di carattere istituzionale riguardo alla federazione hai detto insomma la scelta anni 80 anni 90 abbiamo a lungo discusso su questo tema in diverse riunioni nel direttivo e alla fine abbiamo optato per il 90 per una serie di considerazioni gli eventi internazionali anche la filateria e la storia postale cambia molto con il crollo del muro dell'89 del 92 via l'introduzione dell'euro altra svolta epocale ma così ce l'abbiamo detti escludiamo i castelli sì abbiamo voluto escludere i castelli perché abbiamo ritenuto che i castelli fossero come dire quasi delle cose molte una serie molto studiata molto collezionata molto frequentata e quindi che candesse un po' il concetto della che volevamo dare alla filateria d'oggi di ricerca personale novità scoperte cose di questo genere sempre per quanto riguarda la federazione è ben vero quello che hai detto e cioè che la partecipazione è stata molto scarsa e questa è una cosa che mi addolora profondamente ma non è che non ci dorma la notte però insomma ecco mi dispiace perché era ed è tuttora un aspetto in cui io credo profondamente io credo che chi non ha il tempo la voglia le risorse per poter fare delle collezioni non dico classiche ma moderne e così via può essere una magnifica palestra e un magnifico sistema di divertirsi sia dal punto di vista della storia postale sia dal punto di vista della filateria tradizionale facciamo degli esempi adesso so qui adesso vediamo il tuo schermo quindi non vedete me però non so se mi vedete strisce delle donne dell'arte con tutti i bordi di foglio che ci sono anche su gli ultimi cobolli e così via non ho mai visto collezioni dedicate a tutti i segni le segnature sui bordi di foglio non sono dal punto di vista invece collezionistico mi permetterai di non essere d'accordo con la tua affermazione quando dici che i francobolli donne nell'arte sono stati gli ultimi dopodiché si tratta di etichette arricide i francobolli si evolvono si evolvono come si evolvono tutto come si evolve tutto all'inizio erano per esempio non dentellati e dopodiché c'è stata la dentellatura io ricordo che l'imperato diceva a me i denti nei francobolli fanno venire il mal di pancia cioè lui voleva dire colleziono solo emissioni classiche non dentellate però non mi sembra corretto insomma emissioni dentellate sono francobolli collezionabilissimi in questo senso anche i francobolli adesivi hanno altre caratteristiche tecniche che possono essere molto ben collezionate un aspetto che io mi sentirei di spingere di suggerire e che ho suggerito più di qualcuno ma che nessuno ha raccolto è la collezione delle altre sistemi di affrancatura le tipi label quelle nere a formato più tondeggiante sono più quasi quadrato le strisce blu che ci sono adesso e così via questa è una cosa che si può fare tranquillamente però vi sfido a trovare delle tipi label in lire invece che in euro oppure quelle a doppio valore e quindi è una collezione che può dare anche delle soddisfazioni insomma le possibilità ci sono sia in storia postale sia in filateria tradizionale colpa nostra della federazione evidentemente che non siamo riusciti a farlo capire molto ai collezionisti abbiamo fatto dei seminari ho scritto una serie di cose su cui filateria sul sito poi poi se non piace non piace ah beh certo bisogna non vuole non vuole fine grazie e grazie del contributo e delle precisazioni Bruno allora passiamo invece alla seconda parte la parte diciamo di quella in cui ho proprio dei piaceri di condividere un po' quella che è stata nella mia esperienza a parte le manifestazioni internazionali in Italia sto parlando del 2009 del 98 del 92 del 85 quella a cui ho è partecipato ma a livello internazionale le mie prime uscite diciamo come visitatore è stato a San Pietroburgo nel 2007 e a Tel Aviv nel 2008 questa è l'immagine dell'esposizione di Israele del 2008 una magnifica esposizione allora direi che diciamo che la mia primavera partecipazione è stata a Parigi nel 2014 qui vedo che c'è Paolo e naturalmente intende Bruno e devo continuamente ogni volta ne lo dico ringraziare i loro due che mi telefonarono un venerdì mattina e dicendomi devi venire perché io esponevo per la prima volta devi venire devi farti ne conoscere devi vedere come sono impostate le altre nelle collezioni mi telefonarono la mattina il pomeriggio io ho preso l'aereo il venerdì sera ero con loro a Parigi e successivamente vedete tutte le volte che sono stato a esposizioni all'estero o come espositore o come commissario e ultimamente anche naturalmente come giurato mi interessa di presentarvi questo che è un estratto di Enric Emorinsen che è quello che è possibile di trovare anche sul sito è della FIP sostanzialmente è una bella presentazione io ne presenterò solo un estratto su alcuni punti che credo che sia importante ne condividere suggerisco poi di andarsela a guardare tutta e se qualcuno ha la possibilità quando Enric magari durante un'esposizione mondiale fa una presentazione su questo argomento è estremamente importante dal mio punto di vista partecipare allora qui ho messo in evidenza i punteggi che non vengono impiegati ho messo un asterisco perché uno dei punti fondamentali secondo me è questo la presentazione dal mio punto di vista può valere molto di più di 5 punti viene giudicato a 5 punti ma una presentazione un'esposizione che produce quello che ormai viene richiesto il wow effect cioè di dire wow ma che bella che è vale secondo me molto di più perché influenza è naturalmente tutti gli altri nei punteggi è importante emetterli in evidenza perché a volte si dice sì ma ho messo dentro del materiale in più molto raro la rarità rappresenta il 20% del punteggio emettertatico quando ben ci ho messo dentro tutto ho speso centinaia di migliaia di euro e ho messo tutto quando ben ho 19 punti di più non posso ma io ce ne ho altri 80 su cui io posso lavorare per migliorare il mio punteggio e questo è il messaggio che in qualche modo voglio trasferire fondamentale è la prima pagina io ho avuto della fortuna di partecipare a un corso a Budapest una quindicina di anni fa e vi mostro la prima pagina di Jean Vorutz secondo me Jean che ha vinto più di un gran premio a livello internazionale ha la miglior prima pagina io gliel'ho copiata perché spesso vedo una prima pagina in cui più dei tre quarti della pagina racconta la storia della collezione non tenendo conto che il giurato quando si pone di fronte al quadro vuole comprendere bene la collezione che sta per andare a guardare e poi scorrendo naturalmente i quadri uno degli elementi fondamentali è quello di riuscire a spiegare con la prima pagina immediatamente far intendere al giurato cosa deve andare a guardare questo è il tipico caso in cui viene utilizzato un color code per attrarre l'attenzione del giurato un punto importante l'ho messo in rosso è il punto 3 personal research and publication questo vale se vediamo 35 punti quindi vale molto di più della rarità in che modo io collezionista posso raccontare a un giurato che non mi conosce che io sono molto esperto è l'argomento devo dirglielo devo farglielo è presente nella sezione che vedete qui in basso c'è scritto io ho fatto ho tenuto delle conferenze nel suo argomento ho scritto un articolo sulla rivista della federazione ho scritto un libro questo è un modo per raccontare la mia la mia conoscenza dell'argomento poi c'è un altro modo che lo vedremo dopo che è quello di come ne presento è naturalmente i pezzi che mostro nella mia collezione ecco questa io l'ho presa ho iniziato ad esporre con il formato A3 e anche qua come vedete background breve storia scopo personal research outstanding pieces non più di 10 il color code per mettere in evidenza i pezzi rari e poi naturalmente anche il piano e la bibliografia il trattamento diventa una volta che io ho tratto l'attenzione del giurato che si forma subito un'idea della collezione altrimenti il giurato che si muove lungo i quadri a questo punto deve comprendere lo sviluppo che io ho dato a questa collezione poi entra un pochino di più e vuol verificare la completezza faccio una collezione di storia del postale metto solo le tariffe per l'interno è chiaro che se faccio una collezione di storia del postale in un certo periodo è di tempo è opportuno che bilanci naturalmente il materiale tra il materiale per l'interno e il materiale per l'esterno ecco queste sono le domande che sostanzialmente il giurato si fa o anche un collezionista e dovrebbe farsi c'è un allineamento tra il titolo il piano e il contenuto della collezione bisogna domandarsela quando si prepara e si monta bisogna guardarla io non so chi mi sta seguendo come come ne presenta come monta le collezioni ma c'è qualcuno che addirittura si è fatto un quadro un quadro un espositore e se la guarda quando è quadro non è per quadro io ho la fortuna di avere un tavolo molto grande un tavolo è frattino e la guardo proprio mettendo i sedici fogli in fila cosa vi voglio dire con questa slide che è parte appunto della presentazione questo è un tipico esempio di otto quadri in cui c'è domestic postale per l'interno tre quadri postale e per l'estero cinque quadri scusate questo vuol dire un ottimo bilanciamento rappresentare una collezione di otto quadri in cui faccio sette per l'interno e uno per l'estero e chiaramente il giudizio è subito di essere sbilanciato qui scrivo quando il materiale lo permette bisogna cercare di chiudere il quadro al sedicesimo foglio cioè se io ho otto quadri otto capitoli o posso avere otto quadri quattro capitoli ma devo cercare di chiudere il mio capitolo al secondo quadro al foglio ai 32 questo non è perché da un lato rappresenta appunto l'organizzazione e la decollezione dall'altro il giurato è portato a vedere il capitolo che inizia e il capitolo che finisce e non a metà non sempre è possibile e chiaramente ma quando ne parliamo di esposizioni internazionali che tendono alla perfezione bisogna riuscire attraverso la possibilità di avere il materiale a disposizione anche in qualche modo di guidare lo sguardo del giurato questo è un altro punto importante che fa il pari con quello che vi dicevo prima ormai il giudizio di un giurato a livello internazionale a parte tutte le premesse che vi ho fatto è quello di cercare di avere il capitolo in testa al foglio a sinistra e il sotto di capitolo sulla destra quando andiamo a vedere per esempio diciamo che potrebbe essere che il capitolo è principale è domestic mail e poi avrò il sotto capitolo lettera il sotto capitolo postcard e così via tanto per comprendere come si deve svolgere cosa ne vuol dire che se io sovrappongo i fogli di un capitolo vedete domestic mail domestic mail domestic mail domestic mail sulla sulla e sulla sinistra sulla destra invece ci sono i sotto capitoli e Morrison dice io debbo vedere lo svolgere proprio ne sovrapponendo in questo modo i fogli e i vari quadri e devo in qualche modo e devono svolgersi per mantenere continuamente quella che è considerata la storyline attenzione alle duplicazioni questo è un esempio in cui sono belle dal punto di vista iconografico e colorate ma sono tutte più o meno sulla stessa netta riffa dunque importanza della conoscenza e della ricerca anche qui diciamo che se in prima pagina abbiamo messo in evidenza che ho fatto seminari ho scritto articoli ho fatto dei libri si esprime anche attraverso come come io presento i pezzi se sono ben descritti e facciamogli un esempio questo è per esempio un pezzo assolutamente ben è descritto ben messo in evidenza nella pagina successiva ne vediamo un altro documento in cui la descrizione è fatta in questo modo se vediamo il successivo è sempre lo stesso nel documento chiaramente qui il giurato dice ah però ne sa di più questo è ancora più è completo questo è ancora più è ancora più è completo quindi la conoscenza si esprime soprattutto nella modalità in cui se la nostra collezione di storia postale parla di tariffe è chiaramente la conoscenza si esprime anche attraverso la capacità di descriverne propriamente i pezzi rarità si tende sempre a considerare la propria decollezione tra i pezzi i più rari al mondo e si tende anche di sovra esporli in qualche modo incorniciarli in rosso ma mettercene troppi quando sono troppi il giurato si infastidisce io dico che in una collezione non dovrebbero essere messi in evidenza non vuol dire che gli altri non sono rari ma messi in evidenza non più di dieci pezzi cioè non vrà sovra esposto un suggerimento del personale è che se io espongo per la prima volta a cinque quadri sto pensando per esempio a Piccirillo non ci metto tutto subito le mie bombe esponi la collezione una volta per arrivare a prendere più di 85 punti in modo tale che ti permetta di esporla poi a otto quadri e poi nella descrizione della iscrizione alla volta successiva metti in evidenza le cose che sono state messe in più difficilmente una collezione alla prima esposizione a cinque quadri ho visto un solo caso quella di Angelo De Teruzzi non so se stasera è al telefono anche Vittorio eh c'è Angelo no dicevo anche Vittorio a New York per consiglio io mi ricordavo io mi ricordavo scusate io mi ricordavo Angelo De Teruzzi che con cinque quadri forse a Essen ha preso 93 punti cioè ne ho mai visto in vita mia Claudio New York a 95 punti con cinque quadri eh non ti dimentico beh tu avevi dietro già una una bella spinta dalla Grecia avevi il vento in poppa eh ti ho consigliato di partire forte e di far vedere subito chi era è più difficile risalire dopo ok ora tocco un punto importante che è la sinopsi e qui devo veccalire un aspetto che forse i collezionisti non conoscono quando si manda il modulo di richiesta di iscrizione chiedono di mettere la prima pagina ed eventualmente la sinopsi in questa prima fase la sinopsi è utile ma non determinante perché in questa prima fase a cosa serve la prima pagina e naturalmente la sinopsia a permettere al comitato organizzatore con l'esperto della FIP di decidere quali collezioni accettare e quali collezioni non accettare i criteri di selezione quando le collezioni sono più dei quadri disponibili a volte è semplicemente perché hanno deciso che su 500 di collezioni 150 devono essere di storia postale 50 di filateria tradizionale o hanno anche dei problemi di spazio nel senso che i locali sono disegnati e quindi si tende a rendere omogenea l'esposizione nel complesso quindi questa di prima fase l'iscrizione e questi e i documenti che vengono allegati servono per far decidere questi documenti poi molto probabilmente non arriveranno forse mai in mano alla giuria diventa fondamentale invece la sinopsi nel momento in cui il commissario diciamo tre settimane prima raccoglie le sinopsi e le invia al segretario della giuria invitandolo a distribuirlo a quello che poi è al team leader del gruppo che selezionerà che valuterà le collezioni io ricevo ho ricevuto sinopsi di mezza pagina che è sostanzialmente il copia e colla di una parte della prima pagina se prima ho copiato la la prima pagina di Giorgio Ruzzi e l'ho fatta mia quella che vi mostro adesso invece è la copiatura della sinopsi di Angelo Eteruzzi che quando l'ho vista per la prima volta me ne sono innamorato e gli ho detto la farò sempre è così non è detto che sia però è un buon punto di riferimento e ve la mostro questa è la sinopsi della mia collezione che è andata da Cape Town tre pagine non deve essere più di tre pagine è meglio due che tre in genere scopo 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 della collezione l'importanza il trattamento conoscenze dei personali ho fatto questo ho fatto quell'altro ho fatto quest'altro le condizioni la rarità la struttura di come è stata impostata i precedenti dei punteggi e miglioramenti rispetto alla volta del precedente questa è come deve essere fatta una sinopsi che inquadra già il giurato cioè avendo in mano un documento come questo si rende conto già già valorizza in un certo modo la collezione e prima ancora devi averla vista credo di avervi detto tutto quanto avevo da dirvi in termini di suggerimenti appunto perché io credo che uno dei miei compiti quando faccio il commissario per la federazione è anche quello di apprendere e poi in qualche modo ritrasferire a tutti voi le conoscenze che in qualche modo io raccolgo grazie per l'attenzione disponibile appunto alle domande grazie Claudio c'è qualcuno che ha vuole fare qualche domanda pronti mi meraviglia che è che Bruno non parli mi sarei veramente meravigliato che e che Luisa ti abbia imbavagliato e legato stasera no 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 sta sta buon dai allora no volevo dire le osservazioni che ha fatto Claudio sulle esposizioni internazionali sono tutte corrette poi ci sono due scuole sul fatto esponi gradualmente non mostrare subito tutti i pezzi che hai oppure partire col botto noi abbiamo avuto esempi sia dell'uno sia dell'altro aspetto l'aspetto di partire col botto è sicuramente Vittorio soprattutto anche Angelo ma soprattutto Vittorio l'aspetto di andare gradualmente sono tante collezioni l'esempio classico è quello di stato quello di Mario Miltaschi che è aumentato progressivamente nel corso del tempo però parliamo di 20-15 anni fa insomma ecco per cui non saprei bene come consigliare forse non avrei un'opinione in proposito mentre invece il presentare bene fare un bel piano dal punto di vista sostanziale ma anche grafico è sicuramente un'arma vincente questo poco ma sicuro grazie Bruno Massimiliano Bruno prego sì volevo chiedere una cosa riguardante la filateria ad oggi che tempo fa appunto già ne parlammo di questa possibilità anche con il presidente Bruno Crevato la domanda che faccio a Claudio come vedi inquadrata se ci sono state già se le hai potute vedere come vedi inquadrata la possibilità anche di preparare una collezione tematica con la filateria ad oggi e diciamo le prospettive in relazione sia ai valori dei punteggi indicati da te e sia insomma proprio per uno sviluppo omogeneo insomma di una collezione adoperando pezzi dal 90 in poi e poi seconda domanda che è conseguente dalla prima se magari in un discorso tematico per diciamo non andar fuori tema sarebbe possibile anche qualche eccezione con qualche franco bollo oppure qualche elemento postale anche anteriore al 1990 grazie allora sì è permesso qualora l'argomento lo giustifichi naturalmente che puoi mettere qualche documento postale o qualche nel franco bollo precedente alla data prevista questo è è consentito diciamo un 5 un 10 di per cento è è consentito allora la filatelia moderna parliamo di livello internazionale e l'unquadro vengono giudicati dalle rispettive diciamo nelle 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 rispettive classi ovvero nella filateria moderna sì c'è il regolamento eccetera eccetera ma si tende in genere almeno per l'esperienza che ho avuto io che si guardano poi diciamo alla fine e vanno a guardarli quelli di cui o di filateria tradizionale o di storia del postale non ho mai visto una collezione tematica in può esserci stata ma io onestamente non l'ho vista né tematica presentata nella filatelia né moderna ora che me lo dici c'è l'effetto né novità potrebbe essere una prima iscritta in filatelia né moderna con caratteristiche di tematica potrebbe essere una interessante novità per la giuria e quindi creare un effetto se posso fare un'osservazione pur non essendo esperto ovviamente di tematica cioè ovviamente perché non sono giurato intendo e quindi magari dopo sentiamo il parlere di Paolo a me sembra che il concetto di filatelia ad oggi e il concetto di filatelia tematica boh stridano un po' fra di loro nel senso che essenzialmente il la grande apertura su tutto ogni tempo e ogni paese della tematica insomma strida un po' con una limitazione cronologica abbastanza importante come quella della filatelia moderna della filatelia ad oggi scusate come sapete in Italia la chiamiamo filatelia ad oggi anche lì ha fatto un lungo dibattito perché filatelia moderna è una sottoclasse della classe di filatelia tradizionale si intende 1900 1945 per cui sono due cose diverse e insomma mi sembra che fare una tematica con queste fortissime limitazioni sia forse abbastanza anacronistico insomma ecco non renderebbe merito la collezione mentre una tradizionale o una storia postale ma anche una maxima o un'aero filatelia insomma anche le collezioni di astro filatelia per definizione sono quasi tutte di filatelia ad oggi e di interi anche insomma credo che ci venga meglio ecco non la vedo sinceramente la tematica ciò detto ovviamente tecnicamente è possibile e potrebbe essere anche una sorpresa una sorpresa una sorpresa secondo me però secondo me i giurati internazionali per quanto li conosco io non la capirebbero la storia a cui sconsiglierei da un punto di vista pratico di provarci non da un punto di vista teorico piuttosto uno ci prova in Italia questo sì questo sì posso dire su questo è chiaro che quello che dice è giusto dopodiché se uno sceglie un tema che è prevalentemente documentato da pezzi recenti per esempio non so la mobilità sostenibile per quanto mi riguarda allora è chiaro che uno può le emissioni sono quasi tutte del periodo interessato quindi o Torino 2006 le Olimpiadi la può esporre anche in filateria d'oggi perché è tutto parte del periodo è più difficile come posso dire essere distintivo nella scelta del materiale ecco questo sicuramente è più difficile trovare delle cose complesse magari andando sulla Open anche con taglio tematico è un po' più fattibile perché anche nel periodo moderno ci possono essere cose particolarmente rare tornando alle Olimpiadi del 2006 c'è un bel libro dell'Unione Italiana collezionisti olimpici e sportivi tutto il materiale di Torino 2006 c'è anche roba molto rara ovviamente relativa alle competizioni agli atleti e così via in termini filatelici classici filatelia tematica diciamo usuale è più complicato come hai detto grazie Flavio Riccitelli sì buonasera a tutti dunque ho una serie di domande da fare però partiamo dall'ultima parte della presentazione che mi sembrava fosse più generica e non focalizzata sulla filatelia moderna e a proposito del discorso della sinossi prendo atto e quindi ne farò ne farò tesoro che la sinossi alla fine la possiamo anche diciamo consegnare in seconda battuta perché a quel punto per scegliere se una collezione deve essere ammessa o meno penso che già il piano possa abbastare e quindi vorrei una conferma su questo e poi sul discorso relativo alla strategia di presentazione ecco io volevo evidenziare non ho l'esperienza che avete voi quindi sarebbe bene che ce la raccontiate a livello di giurie tra esposizioni FIP e esposizioni FEPA quindi la strategia si è giusto io ritengo utile sono d'accordo che è meglio presentare i pezzi pesanti dopo perché come diceva Claudio sicuramente è difficile tranne le eccezioni di cui abbiamo discusso è difficile con una collezione a cinque quadri arrivare ad un oro però è vero anche che la successiva esposizione che io faccio quando la farò su otto quadri l'interrogativo a cui che mi devo porre è anche quello ma ho esposto a una collezione FIP e ho preso il Vermeil per poter poi accedere alla collezione a otto quadri ma se poi vada una FEPA e la FEPA e sappiamo che i giurati FEPA non hanno tutte le conoscenze in termini di di dati rispetto ad una collezione FIP se poi alla fine quella strategia sarà positiva questo voglio dire non so se mi sono spiegato e viceversa cioè questa strategia deve tener conto anche di questo è vero sì può funzionare se io faccio da FIP a FIP però se faccio da FIP a FEPA non so fino a che punto può essere valida come strategia e quindi anche qui vorrei avere una conferma e poi l'ultima cosa riguarda quello che prima ha detto Bruno e cioè relativamente alla filateria moderna alla filateria d'oggi io almeno da punto di vista dell'areofilateria credo che così come è complicato fare una collezione di areofilateria di epoca moderna ancora più complicato è farla di di filateria d'oggi perché se io devo parlare di areofilateria devo parlare di linee aeree e sappiamo bene che in linee aeree dopo il dopoguerra è diventato molto complicato a maggior ragione se parliamo di filateria di filateria d'oggi per cui io la filateria d'oggi la vedrei molto declinata sulla filateria soprattutto sulla filateria tradizionale e sulla storia postale o anche interofilia ad esempio però sulla filateria la vedo molto complicata perché poi alla fine se presento una collezione di posta aerea di epoca moderna mi devo comunque limitare alle tariffe e basta perché le linee aeree come faccio a conoscerle e quindi a quel punto là perde un po' la connotazione di di collezione areofilaterica ho chiuso ma non so Paolo tu sei giurato sia FEPA che FIP sì non c'è differenza anch'io non c'è nessuna differenza e anche internet io ho avuto esperienze a riguardo che non hanno confermato questo giurati sono poi gli stessi con Paolo ne avevamo parlato a Lugano ma i giurati poi sono gli stessi Flario però sono archivi diversi hanno archivi diversi non so se hanno la memoria di quello che uno ha presentato prima ecco ma è importante però la sinossi ti aiuta anche descriverlo descriverlo è quello cioè tu devi raccontarlo confermate questo allora sicuramente l'importante è che tu quando fai la sinossi di cui parlava Claudio quando fai la sinossi di cui parlava Claudio riferisci la tua ultima esposizione internazionale che sia Fippo Fepp a seconda dei casi e le modifiche che hai fatto dopo quella volta come si vedeva nella slide che ha fatto vedere Claudio quello aiuta il giurato a capire come sei stato valutato ma soprattutto se hai cambiato qualcosa poi i precedenti considera che ogni giuria ha il diritto di vedere completamente ex novo la collezione quindi sono un riferimento ma più che altro per capire se il collezionista ha lavorato sui commenti che ha ricevuto quindi non sono impegnativi rispetto assoluto dei punti che sono stati dati allora certo Flavio il discorso è questo in linea puramente teorica che non esiste tu hai anche ragione sul fatto degli archivi e delle cose nella pratica l'80% delle persone e delle giurati che tu trovi in un'esposizione sono giurati anche di altre esposizioni cioè sono giurati sia FEPA sia FIP l'unica differenza è il fatto che il giurato FEPA in una mostra in Europa tu hai che sia FEPA o FIP hai un maggior numero di giurati europei quindi probabilmente più esperti di materiale europeo mentre se tu puoi fare una mostra in Asia hai una maggioranza di giurati di area asiatica che sono più esperti di area asiatica e conoscono meno le cose più particolari dell'area europea tu hai uno sfizio europeo che il giurato europeo italiano conosce perfettamente e il giurato cinese non ne ha idea e viceversa magari noi non conosciamo tante finezze della filatina ecco però De Bruno io ecco io ho visto in Treilandia poi anche a Lugano tant'è vero che una collezione poi Antonello Fumo la trasferì perché ormai fai storia di postale 3A 3B e 3C 3A Europa 3B e i team i team erano o europeo o asiatico o americano però sai a livello di giudizio globale della giuria insomma no certo questo in ogni caso il suggerimento corretto è quello di Paolo tu presenti i tuoi risultati migliori i tuoi ultimi risultati migliori il giurato che sia una FEPA o che sia una FIP lo valta lo vede l'unica differenza tecnica tra FEPA e FIP è che se tu hai qualificato per gli 8 quadri in FEPA non ti vale con la FIP se non ha la recognition o viceversa insomma ecco però ormai praticamente tutte le FEPA pagano anche la recognition FIP e quindi i 5 quadri cioè il passaggio agli 8 guadagnati nella FEPA ti vale anche nella successiva FIP insomma per cui non è un problema di archivi l'archivio è nella testa del giurato io ti assicuro De Flavio che per quanto mi riguarda io ho tutti i risultati me li porto dietro sui tablet e in in Thailandia che fortunatamente ero in giuria ho evitato dei danni facendo del presente appunto che aveva di per tre volte preso un certo livello e punteggio e che quindi era totalmente sbagliato quello che avevano perché poi capita l'errore cioè errare un manu maestro insomma ma comunque e quasi tutti io ho visto che quasi tutti i giurati hanno dietro o cartaceo o su iPad ne si portano e tutte insomma delle ultime dieci almeno esposizioni bene abbiamo fatto più abbiamo fatto un'ora e sei minuti Daniello volevamo stare nei 45 minuti ma le domande sono state molte va benissimo mi sembra che non ce ne siano altre nei chat leggo dei commenti quindi non so se volete aggiungere altro bene io fatemi aggiungere una cosa veloce per chi interessa lunedì prossimo il nel tavolo dei postali c'è un incontro con i rappresentanti di Post Europe cioè quell'organizzazione come sapete che fra le altre cose emette ogni anno i francoboli Europa a parte che il giro dei francoboli Europa degli ultimi 20-30 anni può essere un buon soggetto di filate via ad oggi sarà anche interessante sentire che cosa fanno oltre a fare questo insieme di francoboli che cosa fa Post Europe la conversazione di lunedì sarà in inglese ma vi sarà una traduzione simultanea cioè questo dirà due frasi in inglese poi verranno ripetute in italiano e avanti così per cui è seguibile da tutti lunedì prossimo alle nove grazie Bruno bene ci saremo grazie anche a Claudio e a tutti quelli che hanno partecipato grazie buonanotte grazie e buon weekend a tutti ciao 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 ciao